La mobilità sanitaria è per la Basilicata una vera e propria piaga sociale. Così il capogruppo del PDL Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli, nel commentare ai dati diffusi dal quotidiano Sanità, sui numeri di un fenomeno che coinvolge in Italia tra gli 800 e 900 mila cittadini e determina un giro di affari di quasi 4 miliardi di euro. Napoli non si stupisce che tra le regioni in perdita figuri la Basilicata, il cui esborso, come saldo tra i crediti vantati verso le altre regioni e i debiti maturati verso le stesse per effetto del fenomeno della migrazione sanitaria, raggiunge i 31 milioni e mezzo di euro. La ricetta per invertire la tendenza sarebbe per Napoli quella di ripeteri e per altri reparti e dipartimenti sanitari della nostra regione quanto fatto per il reparto di reumatologia del San Carlo di Potenza. Vale a dire puntare su un centro di eccellenza è capace di erogare prestazioni di elevato livello qualitativo quale unico e vero antidoto alla migrazione sanitaria.